Siamo su il mattino, Belen rompe il silenzio sulla Dio Mediaset, ringrazio il presidente per avermi scelta e Maria De Filippi per i consigli, spero sia un arrivederci. Finisce così per ora la storia della showgirl argentina che ci ha tenuto a precisare che è stata lei a lasciare la conduzione delle Iene di Tusik e Vales, mentre in vacanza con la famiglia allargata, Belen decide di mettere nelle sue storie Instagram un messaggio, forse per mettere un po' a tacere i rumors che alludono al suo malcontento. Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi per tutti i consigli e per l'opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide e parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, ma spero solo un grande arrivederci. Insomma, pare che per Belen le porte del Biscione non siano chiuse, ma solo socchiuse. Che ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Che ne pensate al riguardo?